Si è chiuso ieri il mercato del calcio Catania in vista della stagione 2018-2019. Il club etneo definite le operazioni in entrata con qualche giorno d'anticipo si è potuto concentrare sullo sfoltimento della Rosa. Hanno salutato Torre del Grifolo attaccante Pozzebon che svincolatosi si accasera al Bari, il centrocampista Caccetta liberatosi con la stessa formula, mentre nella giornata di giovedì aveva salutato i rossazzurri anche Fornito che ha trovato posto in prestito alla Paganese. Stasera gli uomini di Andrea Sottile torneranno in scena al Massimino nell'amichevole con la Vibonese ma l'attenzione di tutto l'ambiente e proiettato a quanto accadrà nel corso della prossima settimana con il Collegio di Garanzia del Coni che si pronuncerà venerdì prossimo sulla questione ripescaggi.